È meglio essere temuti o rispettati? Io dico, è troppo chiedere entrambe le cose? Dicono che la migliore arma sia quella che non si deve usare mai. Con rispetto io non concordo. Io preferisco l'arma che si deve usare solo una volta. È così che faceva mio padre, è così che fa l'America e finora ha funzionato piuttosto bene.